Un anno davvero difficile. Il Comune di Verona, che non è tra le città italiane che più patiscono questa crisi, ha visto duplicarsi in questo 2013 le richieste di sussidi da parte delle persone in difficoltà. Ha visto aumentare il numero dei disoccupati e dei cassa integrati. Sono stati questi gli argomenti al centro del tradizionale incontro tra vescovo, sindaco e assessori comunali della città scaligera. Un incontro, meglio uno scambio di impressioni, preoccupazioni, dubbi che attanagliano coloro che si prendono cura della comunità di Verona e che ai nostri microfoni hanno ribadito l'importanza della coesione sociale, dello stare uniti per aiutarsi. La situazione è sempre più pesante. Fino adesso segnali di cambiamento non ce ne sono. La crisi non si attenua, soprattutto da parte della politica nazionale. Non c'è nessun segno di inversione di intendenza sulla diminuzione delle tasse, sulla sburocratizzazione, su quello che servirebbe per cominciare a ripartire, perché sarà dura comunque ripartire. E quindi l'importante almeno, e la speranza deve essere basata su quello, che il senso di comunità, la solidarietà, il fatto di cercare di darsi una mano tra istituzioni, associazioni caritevoli, volontariato, i cittadini e le famiglie, tenersi saldi su quello, sui valori fondamentali. Perché non prevalga la disperazione e la sasperazione. Le manifestazioni che ci sono lungo le autostrade, dei cosiddetti forgoni, danno la misura di quanto è esasperata la gente. Già nel 2009, 10, 11, 12, l'anno prossimo sarà l'anno della ripresa. Noi siamo ancora in attesa che questa ripresa ci sia, però alcune questioni vanno affrontate molto seriamente. Tutto ciò che comporta un governo sapiente. Dico per esempio, tra le tante che si potrebbero suggerire, quello di modulare il fisco in rapporto a quello che uno ha e non a ciò che uno non ha. Se uno non ha, il fisco deve tenerne conto. Insomma, è questione di far sopravvivere o no. Perché quando per esempio una piccola azienda è costretta per un fisco troppo pesante a chiudere, vuol dire che di fatto il fisco non avrà più neanche quello che riceverebbe abbassandolo. E poi avrà lasciato sulla strada, sull'astrico, troppe famiglie e tante persone che sono disoccupate, che diventano un aggravio per la vita sociale. È anche un discorso sociale, è anche un discorso cristiano questo? È sociale, è cristiano, è cristiano perché è sociale, perché ha una ricaduta sul sociale. Dico questo delle tasse, ma ce ne posso dare tante altre, perché per esempio tante sperequazioni e privilegi ancora in atto. Qui si tratta di dire c'è un popolo che sta soffrendo. Qualcuno lo guarderà in faccia questo popolo di sofferenti e anche di disperati. Io non dico lo siano tutti, ma c'è una fetta un po' troppo consistente. Qualcuno si dovrà pure prendere carico, in modo che nessuno faccia naufragio.